Chiaramente l'emozione ancora mi attanaglia, mi attanaglia perché sai bene tutti gli anni trascorsi, cominciamo da molto lontano, quando vincemmo il campionato di promozione all'epoca con l'allenatore Antonio Lillo, il presidente era Gallaccio, il direttore Gianni Nazionale che tutti conoscono, Gianni Ranaldi, ad oggi ancora un'emozione ma grandissima per questa vittoria di campionato, è una storia che cambia, gioia, qualche dispiacere, gioia in serie C e tutto quanto, poi avete vissuto le vicissitudini della società quando non è stata iscritta io sono morto, sono morto, adesso sono felicissimo, rinato e credo in questa società, questo grande presidente, questa grande società che guarda lontano, si migliora sempre, la mia gente, io quando entro qui allo stadio il mio primo sguardo è il saluto al popolo di Cassino che mi auguro, spero di vederlo come negli anni passati, come ultimamente, come ultimamente chiamiamolo finale, quello è il vero popolo di Cassino, credo che si ripeterà, credo nel progetto di questa società perché ha le basi solide, idee chiare, c'è uno staff dirigenziale e tecnico che ci invidiano tutti, un presidente che ha malizzato a massimo con tutti i suoi collaboratori, guarda lontano, guarda lontano, è una gioia per Cassino, guarda lontano, è una certezza. Un saluto affettuoso a tutta la città di Cassino che io invito tutti a seguire questa squadra che ci darà ancora tante soddisfazioni, vi aspetto tutti allo stadio, con calore, vi abbraccio tutti, un abbraccio da parte di Carletto, il vostro Carletto ai miei tifosi.